E siccome la getta ci vedeva, lo sai che fece un giorno? Prese un uomo in presenza a chi non ci vedeva e invece dice adesso ve lo provo e lì davanti a tutti zitto zitto prese quel uomo senza complimenti alla panfere e lo fece legge dritto si cominciarono a creare, si signora ma solito a sto porco di paese si potremmo appoggiare per le spese della scoperta io lo conno a fuori la pupa se destacca a salvapure un l'airi murchia tuico, piante e frua un l'italiana pupa o tricolore e un valontando porto da chianua la scena a vista che ha se poi un vegetto che inciacca la tua atti temati o a cerca dell'ampianto cipuletto o giunto l'orio e o cuteli e amianto l'orizzonte le mesi del nivio e grigio solo cura davanti con un l'anima bucetige ciao saliti men poze ciao saliti men poze ciao saliti men poze ciao saliti men poze ma gli anni passano 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 ciao saliti men poze 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 per cui vorreste sapere se siete l'apiano pd dove siamo siamo lì qui ma come saliti i posti no il Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti